E allora, dal capitano al partito di su, ciò che sei diventato il re di questi periodici? No, l'anno scorso ho fatto un po' di sfortuna, ho sbagliato, ho perso all'ultimo giro, se no magari avevo vinto già l'anno scorso. Quest'anno io volevo andare con Adir, mi si è fatta male a Ferrara nelle prove, poi mi piaceva questa cavallina di Ricciardi, di Alberto, gli ho chiesto, mi l'aveva lasciata e si è preparata. La batteria si è andata a battere un po' così perché c'era un cavallo nuovo del puntone che nonostante tutto ci ha fatto fare quasi due giri. Quello che non mi è piaciuto è che un collega come il Farri si è messo di straverso per farci cadere, anche a me mi stava facendo cadere, si è messo proprio di straverso a cancello, quello per me è la cosa più brutta che uno può fare. Ma è l'avversaria, si guarda. Mi va bene, però fino a me è l'erba, che ti metti di straverso e ti ha cadere anche di altri, alla fine ha fatto cadere un sacco di gente, no? Sì, poi cavalli scusi, guarda un cavallo a manocontana e ti ammazza. Eh, la vita non è bella, è bella ma non è bella. La pegnatura bisogna montare con la testa, non è il fucicchio che dice che è larga. No, no, qui è per noi è calvato, è bellina, è fatta bene, io lo sa, non ce l'ho mai stato. Sono tanti anni che non vincevano loro, più per loro che per me, perché, la vita quando ti montano, ti hanno la possibilità, corre sempre per loro. Voi c'è sempre dei bambini, madonna, è un piatto. E' calvato, tutti a mollo, tutti, tutti, io, il dottore, il veterinario, tutti. Il veterinario che era? Eh, Martelli, Gianluca. Ah, Martelli. Vabbè, basta, allora, se ne hai fatto un paio splendido? Sì, ho fatto un paio splendido, ho ringraziato la cipresa, ma è tutta la possibilità, perché non è facile, oggi la gente ti dia una rifiducia. Ho fatto un paio incolore, comunque non ne ho solo fatto, spero che la gente mi ridia fiducia, perché comunque, la campana di dire in pazzo ancora non mi ha sonnata, voi ti vorrei continuare. Eh, eh, ti mi dà un colpo, ma sì. Ho fatto anche, in Bureggio ho fatto una bella cosa, una passeria, veramente bella. E l'ho visto, l'ho visto, l'ichetta che, insomma, l'ho visto, l'ho visto, l'ichetta che... E anche l'ho, eh, anche l'ho fatto una bella passione. Eh, no, no, ma sono tutti i cari che andavano bene, io ho fatto chi partiva, insomma, arrivava. Ciao, ciao. E se, se li ha liberato tardi, Giannetti, che veniva su, fa il tutto giro, si veniva, se li ha il tempo. Non so, come arriva a tardi Giannetti? Del testo, dietro a, dietro a, dietro a, dietro a, dietro a, dietro a, dietro a Stolio, ma perché si è liberato... E anche se ne sono facetti così, ne hanno vincenzo, ne hanno vincenzo, ne hanno vincenzo, siamo più o meno, nella stessa... ne hanno stesso pallone, non è che... E oggi ho toccato a me, e domani il lo cattino, ho toccato a Molito, non so. E se pare di... Menomale, tanti anni che montiamo, eh... ... di scena, di una... ... di una capitana, di una capitana... Io penso qualche possibilità a concludere ce l'avevo. Vediamo, vediamo, non ne faccio. Ti fa un grande in bocca al lupo. Crepi. grazie, ciao